Noi ci siamo attivati fin dal giovedì sera, giovedì notte, abbiamo lavorato in continuità per ridurre al minimo i disagi alle persone, alle famiglie, ai territori. Abbiamo provveduto in 2-2-4 a fornire acqua con autobotti in modo tale che questo aspetto almeno fosse alleviato. Stiamo lavorando in continuità e in collaborazione con tutti gli altri soggetti che operano sul territorio, in comuni in primis. La protezione civile, i vigili del fuoco e diciamo che ci siamo adoperati soprattutto in primis per il tema del gas perché era un tema anche di sicurezza e questo avevamo un tema difficile a Cantiano, ma in contemporanea al rifornimento dell'acqua idropotabile, alle famiglie, alle case, attraverso autobotti, attraverso collegamenti volanti. E' chiaro che tutto questo poi dovrà avere dei ripristini definitivi che in alcuni casi abbiamo perso sorgenti, alcune sono sepolte da 5-6 metri di detriti, quindi è stata una cosa devastante. E l'aspetto più complicato è sicuramente l'aspetto fognario depurativo che come sapete è un sistema che molto spesso lavora vicino o addirittura nell'alveo dei fiumi. Quindi abbiamo tratti di condotte fognarie veramente trasportate via, quindi di velte, che saranno tutte da rifare. Andrà valutato anche se rifarlo nello stesso posto o creare una situazione impiantistica più definitiva e più sicura, così come alcuni depuratori sono veramente fuori uso e quindi c'è un tema che io ho anche evidenziato alle autorità perché c'è un tema anche igienico-sanitario del fiume, quindi è un tema molto rilevante. E tutto questo sicuramente richiede tempo, risorse ma anche capacità progettuale, cosa che stiamo già lavorando. Grazie a tutti.